Vi do una notizia che probabilmente piacerà a tutti quelli che guardano la tv, soprattutto a tutti quelli che guardano con molto piacere e con molta riconoscenza il programma chiamato Ballando con le stelle, quello condotto dalla meravigliosa Millie Carlucci, la sempreverde Millie, che vi ricordo riprenderà ufficialmente tra pochi giorni il 28 settembre 2024 e vi ricordo che c'è già una novità importante, è stata infatti ammessa in qualità di presidentessa di Giulia la straordinaria e sempreverde Caroline Smith, va bene? Caroline dunque torna in tv, torna con questo ruolo, già in passato se non erro partecipò sempre a Ballando con le stelle, il programma che porta i VIP a ballare, porta i VIP a cementarsi in scatenati balli di bellezza e di fascino impressionanti e sono convinto che nel ruolo di presidentessa di Giulia sarà sempre a suo agio come sempre stata effettivamente parlando, va bene? Insomma per farvela breve, il 28 di settembre riprende Ballando con le stelle Caroline Smith, presidentessa di Giulia, di Ballando con le stelle, il programma che porta i VIP e le VIP a ballare ogni sabato, sera che si rispetti, va bene? Complimenti dunque, come gratulazioni vivissime, sempreverda la straordinaria Caroline Smith, il video termina qua, una donna energica, favolosa, fantastica, ma soprattutto brindosa, questa è la cosa che piace più a me, direi, tutto qua, va bene? Questo video chiaramente non vuole, non intende vedere la premisi di Caroline Smith, ma so informare sotto, lascio per questo motivo, non per altri motivi, una buona ragionata a voi.